Non c'è niente che io non farei per Mario, non c'è niente che Mario non farebbe per me. E così sono anni che non facciamo niente l'uno per l'altro. E' andato fuori un momento. Non vuole pubblicità, che va bene. No, non ti stavo bene di tutto. Signora Rossi. Eh sì. Vi ce l'ho sentito. Ma non potrei fare una telefonata? Noi. Solo una, rapida. E non te ne metti per toga. E va bene, ma ricorda io, ho fatto di tutto, di tutto. La stamattina ho fatto di me, a tutti, guardi. E' tutto, e' tutto. No. No. No.